Ciao a tutti, come potete notare questa volta ho cambiato postazione, posizione, mi sono messa qui comoda comoda sul divano, così anche con voi sembra un pochino più una chiacchierata tra amici, anche perché lo sapete che oltre a realizzare tutorial per voi mi piace avere questo rapporto di amicizia che ho con molti di voi con cui parliamo veramente un po' di tutto. Allora, prima di passare come sempre agli argomenti importanti, vi dico subito quali sono stati i tutorial di questa settimana, ne sono usciti solo due perché sono andata a un evento a Milano, ho incontrato alcuni di voi e sono stata molto molto contenta di conoscervi di persona, anche perché ho conosciuto persone che non avevo mai incontrato prima d'ora, è stato molto divertente, alcuni sono rimasti a seguire tutti i laboratori fino alla sera e anche in questo, diciamo in questa occasione comunque mi è piaciuto scambiare comunque un po' di esperienze di vita e di ovviamente creatività, ecco. Spero che le persone che erano presenti quel giorno siano state comunque contente, state vedendo adesso alcune immagini di ciò che abbiamo fatto insieme, ci saranno sicuramente altri eventi, so che molti di voi erano dispiaciuti di non essere potuti venire, ma ripeto, sicuramente ci saranno altre occasioni. Passando ai tutorial appunto che sono usciti questa settimana, vi parlo del primo che, anche se non è un vero e proprio tutorial, in realtà vi ho fatto vedere che cosa ho preso di nuovo e ho comprato una bellissima macchina da cucire elettronica perché sarà oggetto di nuovi tutorial che andrò a utilizzare insieme ovviamente alle macchine da taglio Cricut e all'assampante per sublimazione perché a volte abbiamo tante attrezzature ma ci manca quel qualcosa in più per personalizzare tutto bene. Secondo me una macchina da cucire è molto importante, mettetela in conto tra le, se non ce l'avete già ovviamente, tra le cose che potrebbero comunque, diciamo, come dire, aumentare il tipo o aumentare, migliorare, insomma il tipo di proposta che andrete a fare poi ai vostri clienti. Il secondo tutorial è un tutorial molto più semplice e riguarda la tecnica della sublimazione che siamo andati a fare per dei sottobicchieri segnaposto. Io ovviamente vi ho fatto vedere un esempio di Pasqua, visto che siamo praticamente a Pasqua, però la stessa procedura si può ripetere ovviamente anche per altri eventi, anche in questo caso proponeteli anche durante i party, i matrimoni, non solo feste appunto tipo Pasqua, Natale, Complagno, cose di questo genere, ma anche cose un po' diverse da quelle, diciamo, classiche che vengono proposte normalmente, si tende sempre a pensare che magari il sottobicchiere si utilizza così in famiglia, ma non è vero, si possono proporre anche durante feste particolari, quindi ripeto, party in genere, ma comunque anche eventi di altro tipo. Poi invece una grande novità di cui voglio parlarvi è che a breve uscirà una nuova rubrica, si tratta di un video podcast, anzi di più video podcast, questo che si tratta appunto di una rubrica, dove andremo a parlare con persone, io incontrerò, diciamo così, alcune persone che hanno esperienza su diversi settori del mondo del craft, ma soprattutto cercherò con questi podcast di aiutarvi a avviare un'attività di un certo tipo, quindi conoscendo un pochino tutti i trucchi del mestiere che solo le persone che fanno questo tipo di lavoro da tanti anni possono consigliarvi, ma soprattutto avrete la possibilità di, più che confrontarvi, insomma, conoscere le esperienze di tante persone, di come hanno iniziato, vedrete le loro storie, ascolterete le loro storie e sicuramente molti di voi noteranno delle somiglianze appunto con le proprie esperienze, con ciò che hanno vissuto, ma sono certe che potrete prendere spunto da queste persone che sono persone che io stimo molto, specialmente la prima, non vi dico ancora chi è, comunque la prima persona che vedrete nel video podcast, è una persona che stimo tantissimo, che secondo me è bravissima e sono certa che da lei potrete trarre tante tante informazioni importantissime a questo punto vi lascio perché probabilmente siete già in preparazione per la Pasqua quindi vi auguro una splendida festa, una splendida domenica in compagnia delle persone che amate e anche una bellissima Pasquetta ci rivediamo fra qualche giorno con nuovi tutorial, ciao ciao